amici sportivi a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati apriamo con il calcio e con la conferenza stampa del direttore sportivo della lucchese claudio ferrarese che ha parlato soprattutto di mercato per noi c'era giacomo corsetti conferenza stampa venerdì mattina al porta elisa del ds della lucchese claudio ferrarese il tema dominante è stato il mercato che si è chiuso pochi giorni fa dopo una lunga sessione ferrarese traccia così il suo personale bilancio sono contento che sia finita perché è stato veramente un mese e mezzo tosto pesante ma siamo riusciti a soprattutto in chiusura di mercato di portare qualche ragazzo interessante e soprattutto un giocatore importante come catanese che ha riequilibrato un po le sorti del centrocampo e quindi abbiamo preso un giocatore importante ad essere aperto e ancora il mercato degli svincolati su cui ferrarese risponde così non credo molto nel mercato degli svincolati ma se ci sarà qualche occasione la valuteremo intanto la squadra si è allenata venerdì mattina sul sintetico di saltocchio e lo stesso farà anche sabato prima della partenza nel pomeriggio per ferrara dove l'aspetta la sfida contro la spalla terzo appuntamento di un campionato cominciato con un pari e una sconfitta la squadra è tosta si allena veramente bene sta lavorando tantissimo ripeto è cambiata tanto ma questa non è una giustificazione ma è solo un dato di fatto ma è una squadra che se avesse avuto un po più di fortuna magari oggi saremmo qui a parlare di di qualcos'altro però il calcio è anche questo mi dispiace soprattutto per gli attaccanti perché magari potevano subito andare in gol e dentro di loro crearsi un'aspettativa ancora più più forte più maggiore ma io sono convinto che arriveranno i gol dei nostri attaccanti e che poi faranno da traino a un po tutta la squadra è morto a reggio emilia gaetano salvemini aveva 82 anni giocò nella lucchese nella stagione 73 74 con 38 presenze e due reti ma salvemini allenò anche la lucchese eravamo nella stagione 96 97 in serie via la famiglia salvemini le più sentite condoglianze da parte di tutto lo staff di noi tv scendiamo in eccellenza alberto verona torna alla real forte querceta dopo una stagione in prestito a camaiore il calciatore classe 2004 di proprietà bianco nero azzura torna appunto al real forte a forte le marmi dove già da alcune settimane a disposizione di mister cipolli è già esordito anche in coppa italia calcio femminile blues pietra santa la squadra del neotecnico giancarlo vergazzoli si accinge a debuttare nella nuova realtà del campionato di serie c il debutto domenica prossima alle 15 e 30 sul campo del real meda la prima tra le muramiche invece si giocherà domenica 15 settembre allo stadio 19 settembre di pietra santa contro le sarde del tarros passiamo al tennis non è andata bene i nostri tennisti in giro per l'europa la jessica pierre è stata battuta in due set 7 6 6 3 dalla forte lituana giustina michel schite primo set equilibrato poi nel secondo la giocatrice dell'est ha preso il sopravvento a budapest derby azzurro per michele ribecai opposta leonardo rossi testa di serie numero 5 ventunenne luchesa lottato ha perso il primo 7 6 4 e poi ha ceduto di schianto 6 a 1 nel secondo e adesso torniamo a parlare del giro della toscana femminile che va in archivio sicuramente con un bilancio più che lusinghiero un duello quasi da spaghetti western che ha visto protagonista è una giovane belga una stagionata ma sempre pimpante lituana il giro di toscana femminile 2024 ha vissuto sulla lotta davvero appassionante sul filo dei secondi tra margon van pattenbeke e rasa le levite la maglia rosa è stata una questione tutta loro tranne nel cronoprologo di campi bisenzio con la breve parentesi della passistona olandese scarlett sauren poi il toscana è entrato nel vivo già con la frazione da quarrata serra valle pistoiese e sulla rampa finale della rocca bis un anno dopo della le levite ma grazie agli abboni van pattenbeke in maglia rosa ordine di arrivo invertito il giorno dopo stavolta con la belga a precedere la lituana sul traguardo di segromigno nella tappa dedicata a michela fanini ma da quest'anno anche a mamma giulietta una classifica generale incertissima prima del gran finale da lucca montecatini alto è una storia già vista prima le levite seconda van pattenbeke incollata alla sua ruota il contorno della corsa ha vissuto sulla solita impeccabile organizzazione di quattro giornate di sole di caldo e di tante belle speranze del ciclismo italiano e non che magari tra qualche anno potranno competere massimi livelli soddisfatto patron brunello che ha già dato appuntamento al 2025 e alla 29esima edizione due notizie di motori prima di passare all'ocche su pista 4 le vetture schierate da mm motorsport porcari a rally di casciana terme che si svolgerà nel fine settimana sono affidate a roberto tucci che tra l'altro esordirà il volante della scoda fabia rs luca artino luca fagni davide giovannetti la gara comincerà sabato con la super prova speciale alle 20 domenica poi le altre sei prove speciali l'arrivo a casciana terme domenica alle 16 e 35 per quanto riguarda invece il campionato italiano di regolarità gran turismo la seconda edizione della cisalpina classic race alla quale hanno preso parte lucchesi fabio vergaminian maria fabrizi a bordo della ferrari sf 90 spider non è andata molto bene con un quinto posto assoluto nella classifica generale meglio con il secondo posto nelle prove di media che ha consentito a vergamini di allungare nella relativa classifica del campionato italiano adesso manca soltanto il targa florio in programma a metà ottobre lo che su pista che vive una fase un po particolare tra mercato e quello che è già stato l'inizio della preparazione nonostante i mondiali di hockey su pista a novara sono diverse le formazioni sia dia 1 che dia 2 che a settembre inizieranno la preparazione ci sono giocatori poi anche nel corso dell'estate a livello personale si sono tenuti in forma per farsi trovare pronti in assi di partenza delle gare ufficiali intanto si sta ultimando anche l'hockey mercato il monza dopo l'addio di tommaso colamaria sarà guidata dal portoghese di acquires in porte è arrivato velasquez confermato bielsa e dalla puma saviereggio è arrivato michele pesavento a montebello ex brigante sono approdate gli argentini della reta e torres dal valenca il portiere carlos da silva dal trissino checchetto il novara ha ingaggiato il quarto straniero merendez in serie a 2 confermato alla guida dell's pv viareggio alessandro martini per un ritorno in una categoria importante che ritroverà quindi anche la possibilità di giocare il derby con la pumas viareggio con questo è tutto per la pagina sportiva del tg noi adesso la linea va alla regia subito dopo gli altri spazi dell'informazione su noi tv